Ciao a tutti da Valeria Johnny Depp abbandona il progetto Black Mass Vi dico tutto dopo il video Il tuo cartellino giallo mi ha rovinato la vita Anche tua moglie ha letto Simona Allenerà un piccolo club di dilettanti Due Una piccola isola in Bretagna Ho toccato davvero il fondo Buongiorno, sono Anne Benvenuto a Molenni Salve a tutti, vorrei restare solo con i giocatori Siamo noi giocatori Non si vede? Ho bisogno di te Non gioco più con i piedi, gioco con il cervello Sono un attore Non si fa il cucchiaio, Leandri Ho una squadra per te Le Juve? No, Molenni In Bretagna In Gran Bretagna? No, Piccola Bretagna Cerco un centrocampista per la mia squadra Abbi da sportello! Palli mi ammassano! Sei nella mia squadra? Perché ti seguono più palle? Io non voglio confondermi con un mucchio di dilettanti bretto Lo farai perché me lo devi per porre il tuo eplo Ma tu mi uccide se tocco ancora un pallone Del via del tuo cuore Come vedresti per tuo marito un bel centro di talasso terapia in Bretagna? Niente pallone? No Benvenuti fra noi! No, scoraggio! Facciamo fiato! Ti ho esagerato un po'? Sembra Rocky 9 Eh! Dove ha finito? Ti prego conosci uno psicologo da queste parti? No, va a prendere un pallone Bella carriera che ho fatto Mi sento come il CEA a una riunione sindacale Era meglio il carcere, puttana Eva Ma sono sederi qui? Ora ti devo lasciare Torno nel mio bagno di fango Nel fango non si parla La fa tu Andiamo ragazzi, dai Ancora due minuti Colgo con grazie il cappello Il mantello Lascio presto che cade Veloce colpisco di spada Sì! Sì! Coraggio, tutti in campo Ma cos'è questo odore? Sembra pesce marcio È il mio portafortuna Lo porto da quando ho giocato nell'Under 21 Orberà, ti prego Ti prego, apri la finestra Oh, a quanto pare I produttori Cross Creek and Exclusive Media Non sarebbero in grado di reperire Il denaro necessario per l'ingaggio di Johnny Depp Questi pezzenti, veramente Hanno infatti provato a tagliare il budget Della pellicola Black Mass Fino a 60 milioni di dollari Johnny Depp e i suoi rappresentanti Si sono rifiutati di dimezzare l'ingaggio Passando dai 20 milioni inizialmente previsti Ai soli 10, no ragazzi Cioè, rimanere ricchi è un lavoro duro E non bisogna prenderlo sotto gamba Bravo Johnny Comunque, non è chiaro come l'uscita dal progetto di Depp Influenzerà il coinvolgimento di Joel Edgerton Che ha firmato un paio di settimane fa Per il ruolo dell'agente FBI John Connolly Alla regia di questo biopic Sul criminale di Boston White Bulger Barry Levinson Insomma, Johnny Depp, niente Comunque, per oggi è tutto Iscrivetevi al nostro canale YouTube Per restare sempre aggiornati Sui trailer in uscita E sulle ultime notizie da Hollywood Ciao e alla prossima